ciao amici ben ritrovati alla serie invito alla scrittura oggi parliamo della l'ami abc una stilografica particolarissima perché è in legno è essenziale dedicata ai bambini quindi a tutti coloro che muovono i primi passi con la stilografica ma ne siamo davvero sicuri ormai avete imparato anche voi che ci sono delle stilografiche da pochi soldi quindi da primo prezzo rivolte spesso a bambini o principianti che ci riservano delle graditissime sorprese ma c'è anche un ospite un intruso potremmo dire perché questa è la matita e non si può resistere sono così belle così particolari andiamo a vedere subito faccio un po di spazio l'ami abc l'anami abc ci viene presentata in una confezione che a me piace semplice certo c'è un po di carta un po di plexiglass ma almeno di così proprio non si può bella essenziale quello che la caratterizza come possiamo vedere anche dalla sua semplice istruzione è che il pezzo il fusto la parte portante e per l'appunto in legno e poi ci sono queste caratterizzazioni rosse ma insomma facciamo prima a vedere come è fatta eccola qua una matita in legno che a me ha subito ricordato il pinocchio il burattino perché il colore così del legno chiamiamolo grezzo non trattato se non per l'appunto lucidato e levigato e questo rosso mi ricorda proprio il naso del pinocchio di collodi la scritta l'ami vedo di stringere un po l'inquadratura per i dettagli sebbene sia una penna economica perché stiamo parlando di poco più di 13 14 euro o forse anche meno a seconda di dove andate a comprarla la qualità c'è tutta abbiamo detto legno questi componenti sono in plastica ma sono rifiniti così bene sono così piacevoli al tatto che veramente non non fanno rimpiangere niente sul cappuccio ancora prima di aprirla vedete questa svasatura allora andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione abbiamo la cartuccia di cortesia una cartuccia con l'attacco l'ami sapete che l'ami ha un innesto per così dire proprietario non vanno bene le cartucce standard ma servono proprio quelle di l'ami e poi cosa abbiamo dentro sento che c'è qualcos'altro c'è qualcos'altro e anche più di qualcos'altro perché le istruzioni certo ci servono per spiegare come si svita come si apre la penna per inserire la cartuccia ci spiega che funziona anche con il converter con lo z24 sapete che l'ami ne ha più di uno in catalogo e da quest'altra parte invece ci spiega come funziona la matita ecco perché ho preso anche questa che dopo vi faccio vedere molto molto velocemente perché comunque è chiaro che l'unità il foglietto illustrativo è comune a tutti quanti e poi ci sono anche queste e questi adesivi che ci fanno ci spiegano come utilizzarli ora non so se riesco a inquadrarvi questi che sono quelli bianchi da poter vedete il numero 3 sono adesivi però non sono stampati sovrastampati come questi in altre parole ci mostrano come applicare le etichette o colorate a seconda di quello che è del colore che decidiamo di assegnare alla nostra penna oppure addirittura le iniziali sul cappuccio qui guarda caso c'è scritto laura e insomma il gioco è semplice una andrà nella parte eccola qua in questa svasatura che vi ho mostrato prima e l'altra andrà qua per poterla riconoscere questa è la nostra bella lami io lo svito per abitudine invece la lami a un cappuccio ad innesto ad incastro eccola qua il pennino parliamo brevemente del pennino sì perché questa volta riusciamo davvero a farlo brevemente ci sono solo due gradazioni chiamiamole così quella a che è quella dedicata di solito ai principianti e la lh la left hand per i mancini come vedete è realizzata davvero bene molto piacevole anche da avere in mano leggera e si sente effettivamente di avere in mano qualcosa di diverso dalla resina dalla celluloide è legno quindi consistenza peso peso specifico bilanciamento cambiano leggermente è molto bella da maneggiare svitandola eccola qua troviamo come vedete comunque il legno e all'interno del legno è calettato comunque un anello per serrarla bene perché vi ripeto la qualità c'è davvero tutta e il pennino non è certamente un pennino più economico di quelli che equipaggiano le safari o le all star perché comunque si tratta del pennino che ormai sapete essere prodotto da lami stampato e piegato e assemblato è un po come avviene sulla maggior parte delle sue penne di produzione però sono pennini che funzionano molto bene questo in particolare mi ha anche sorpreso perché d'accordo che sarà riservato ai bambini o ai principianti ma scrive davvero bene vado inserire la cartuccia ma volevo farvi anche vedere questi questi due eccolo qua anzi guardate questi due queste due guide servono per il converter vedete che ha questi due puntini che sporgono ecco questi servono per far vedete se li metto così non entra ma se lo metto così ecco che entra questo però è lo 0 28 non lo 0 24 lo 0 28 non fatica un pochettino più dell'altro vedete a chiudersi quindi meglio usare quelli che sono che è descritto da da lami vi dicevo il pennino il pennino è lo stesso identico con lo stesso attacco di quello che equipaggia la serie safari la serie a l tanti altri modelli la logo insomma davvero tanti della serie lami guardiamole un attimo anche per le dimensioni come vedete pur essendo una penna dedicata ai più piccoli non è mica così piccola però è che una volta che togliamo il cappuccio ecco che un centimetro quasi lo perde quindi i conti si pareggiano però non aspettatevi una stilografica piccola e oltre a tutto c'è anche un altro aspetto le impugnature delle due penne sono diverse perché mentre questa della safari o della all star e di tipo triangolare quindi ma neanche triangolare a questi due incavi nel quali si mette ecco si appoggiano le dita e si impugna così questa ne ha due ma è più e più corpulenta il diametro è maggiore ma è comodissima perché questo tipo di plastica ma è una gomma più che una plastica fa avere alle dita un ottimo grip cioè una volta impugnata difficile che si possa cambiare o assestare bisogna allargare le dita e ricollocarle quindi un'ottima presa una buona impugnatura soprattutto per i bambini o per i principianti però secondo me non è un pennino da principianti perché innanzitutto il pennino a ora lo chiudo se no si secca il pennino a nasce perché è un pennino molto arrotondato facciamo anche una piccola digressione che razza di confusione con queste lettere con i numeri pennino a per i principianti poi il b però per noi è quello largo il c è ancora più largo il di vecchio pelican quello stenografico insomma ce n'è per tutti i gusti purtroppo l'evoluzione e la nomenclatura dei pennini è stata portata avanti in maniera non razionale o comunque non organizzata dalle varie case dai vari produttori e quindi si è arrivati ad avere soltanto come termine comune le principali gradazioni f fm e quelle bene o male corrispondono un po a tutti quanti con gli scarti sappiamo che esistono gli scartamenti tra l'europa il giappone o altri o altri costruttori però il pennino a per tornare in tema è un pennino molto arrotondato mettiamolo subito alla prova perché valgono di più le immagini che tante parole vi confesso che ho pensato cosa racconto nella recensione perché è una stilografica che scrive così bene ma è anche così piacevole che se la rapporto al prezzo potrei dire cari signori fermiamoci qua ci compriamo una di queste scrive così bene tutto il resto davvero diventa accademia però è chiaro che non è così lo sappiamo tutti il mondo della stilografica come per tutti insomma le cose che interessano i collezionisti oppure la semplice passione ha tantissime sfaccettature ma questa stilografica scrive così bene e così morbida così vellutata perché il pennino e il pennino a abbiamo detto un pennino che un pennino che si rivolge a chi sta iniziando allora qual è la differenza rispetto vedete il grado cioè la larghezza del tratto potrebbe essere un fm europeo oppure un medio giapponese orientale ma dov'è la differenza la differenza sta nella finitura nella lavorazione della punta è un pennino per principianti perché consente di lavorare un po vedete in tutte le condizioni di fare anche quelle manovre quelle palombelle che ad un altro pennino non sono consentite perché magari la finitura presenta qualche spigolo perché la finitura nella parte sottostante ha degli angoli ciechi chiamiamoli così nel senso che non può scorrere il pennino a è un pennino arrotondato per eccellenza quindi consente di scrivere scrivere in tutte le situazioni e soprattutto per quelle mani che devono anche imparare un pochettino ad impugnare la penna la penna poi è molto leggera e questo contribuisce a renderla piacevole stando leggeri con il proprio con il peso della mano stando leggeri si ottiene un tratto appena più più sottile ma si riesce comunque a controllare bene la prova anche del bilanciamento come vedete insomma il pennino è comunque un pennino economico non si può pretendere di fare di avere il controllo esagerato però comunque si comporta molto bene e poi e al tatto è molto piacevole e quello la parte del fusto che va ad appoggiare sulla vostra mano o comunque insomma sull'ultima parte della falange dell'indice si sente che un materiale diverso un po' inconsueto molto bello a me comunque piace molto e vi ho anche parlato di questa sorellina la sorellina che è la matita eccola tiriamo fuori non vi faccio vedere all'interno ci sono le stesse cose tranne la cartuccia ovviamente che questa non funziona con l'inchiostro ma all'interno c'è la mina urca come esce come faccio a far uscire la mina da questa matita ci sono le istruzioni e facilissimo e soprattutto è anche molto bello da fare basta girare eccolo qua giriamo questo pomello che è morbidissimo e sagomato davvero bene anche qui troviamo il logo lami un bel logo scritto bene e voi non potete sentirlo ma è proprio inciso oltre che serigrafato è proprio inciso perché comunque deve durare visto che questa è una parte che sarà impugnata con una certa pressione più di qualche volta la mina eccola qua che esce ma perché che ci faccio con una matita tra l'altro vedete come si può regolare ovviamente così non è il caso di scrivere cosa ci faccio allora stesso tipo di impugnatura quindi sono a casa è evidente che chi magari si affeziona alla lami abc che sia un bambino che sia un bambino un po troppo cresciuto e trova qui il corrispettivo matita sapete bene che tantissimi esercizi molti esercizi di grafia di preparazione alla grafia si fanno con la matita e allora ritroviamo un ottimo controllo anche anche in questa una mina che definirei pastosa sapete che non ho nemmeno controllato che tipo di che tipo di mina sia ma come vedete consente per esempio di dare già una ombreggiatura con un po più di pressione insomma di giocare un pochettino ed imparare magari con qualche semplice esercizio le le lignette le gambette quello che insomma si fa un po nei corsi di di scrittura di grafia più che di calligrafia e quindi cari amici credo di avervi raccontato tutto due come possiamo chiamarli best seller perché a 12 euro e mi sembra 8 addirittura la matita queste queste non potrò neanche mettermele nel nel mio armadietto perché le hanno già ad occhiate i piccoli che girano per casa e credo che finiranno nelle loro grinfie ma è giusto che sia così perché è un modo bello per iniziare i piccoli e sapete che questa è una penna che utilizzo spesso anche per i progetti legati alla disgrafia legati alle disortografie a tutti quei problemi per esempio di di prensione di stale che magari qualche piccolo non ha ancora sviluppato pienamente perché sono molto piacevoli al tatto ma di questo ne parleremo anche quando affronteremo affronteremo il tema della pelican griffix che è studiata apposta per questo ok insomma sono quelle quegli oggettini che magari io ammetto che quella stilografica la uso ma la matita la uso davvero poco percentualmente però mi piace e rientra nel cassetto prima di salutarvi cari amici una notizia che forse potrà anche interessarvi visto che uniamo l'utile anzi il dilettevole all'utile da oggi c'è un codice promozionale marco chiari lo troverete in calcio al video per avere un pochettino di sconto presso presso gold pen punto e quindi insomma uniamo lo abbiamo detto il dilettevole all'utile ciao a tutti di aspetto ai prossimi video